Quindi abbiamo in collegamento per noi Riccardo Miotto, consulente relazionale. Buon pomeriggio! Ciao ragazzi, buon pomeriggio! Ciao Riccardo, benvenuto a pomeriggio estate! Grazie mille! Allora, è la puntata dedicata ai desideri, ma anche a desiderare nello stare bene con una persona. Però in questo ci sono tante difficoltà, soprattutto per gli uomini, perché ci ha insegnato quel bellissimo film, Itch, lui sì che capisce le donne, che anche in effetti gli uomini, che se ne dica, sono in difficoltà alcune volte sul come approcciare con le donne, che cosa dire, non dire. Ecco, nella tua esperienza di consulente relazionale, quali sono le problematiche che si innescano il più delle volte negli uomini? Allora, guarda, ti dico innanzitutto sì, confermo quello che hai detto e lo amplifico, nel senso gli uomini sono terrorizzati da innanzitutto la paura del rifiuto, perché per un uomo non solo l'idea di perdere la ragazza che in quel momento gli fa battere il cuore per lui è un problema, ma anche l'idea di venire rifiutato come persona. Lui sente proprio lo smacco di dire, cavolo, non valgo niente, mi ha rifiutato, cosa pensa? Non sono abbastanza, non sono quello, cosa posso fare per? Si sente sbagliato, fuori posto, quindi sono queste le cose principali. Poi a contorno, se vogliamo, altri problemi potrebbero essere, anzi quasi certamente sono, fare una figuraccia, perché nessuno ci prova dal vivo con una ragazza, perché teme che tutte le persone attorno lo guardino e lo giudichino. Le persone detestano essere su pubblica piazza, essere abitate da altri.